La nostra piccola scintilla divina precipita dunque attraverso i vari strati delle materie componenti vari piani di esistenza, in modo molto simile a una valanga, nel senso che alla scintilla succede la stessa cosa che capita a un masso che rotoli dalla cima di un pendio innevato fino a valle. Ad ogni strato di piano che la scintilla attraversa si ricopre di una certa quantità di materia di quello strato, appesantendosi e via via ingrandendosi sempre più fino a ricoprirsi della materia dell'ultimo piano di esistenza, quella più pesante, più grossolana, ovvero la materia fisica. La scivolata della scintilla è stata così veloce e inconsapevole che la nostra piccola e sprovveduta scintilla non solo non ha avuto il tempo di sistemare la materia con cui rivestirsi in mezzo alle tante materie attraversate, ma addirittura non ha neanche avuto l'idea o la tentazione di farlo, cosicché la materia con cui si è ricoperta si è disposta caoticamente sopra di lei, senza alcun ordine né alcuna armonia. A vederla potrebbe sembrare veramente uno straccetto sporco e quasi viene da comprendere perché le altre sorelle un po' più evoluti di lei e quindi un po' più consapevoli, tanto che hanno avuto il tempo di aggiustarsi un po' meglio la materia più esterna, la deridono. Se non fosse che sotto le loro vesti a puntino non comparisse ogni tanto qualche porzione di pelle non proprio in condizioni irreprensibili, facendo capire che non sono poi tanto meglio in arnese di colei che danno mostra di guardare dall'alto in basso.